Come sempre cari amici vi porgo il mio cordiale saluto, vi do il benvenuto a questa nuova puntata della rubrica televisiva al libro aperto in onda su Teleoltre. Io spero che attraverso la presentazione dei libri che vi sottopongo possiate sentirvi stimolati alla lettura. Come sempre voglio ricordarvi che trattiamo libri che in qualche modo hanno a che fare con la realtà del mondo cristiano. Oggi concludiamo un ciclo di puntate in cui abbiamo avuto ospite il professor Massimo Introvigni, direttore e fondatore del CESNUR, che è il centro studi sulle nuove religioni, come sempre voglio ricordare uno dei maggiori studiosi sulle realtà dei nuovi movimenti religiosi, ha pubblicato circa 60 volumi su questi argomenti, più di 100 articoli scientifici su riviste specializzate e oggi sollecitiamo un po' la sua opinione su quello che è il suo ultimissimo libro che ci dà lo spunto di riflettere su alcune cose e poi parleremo anche dell'incarico che il professor Introvigni ha proprio avuto diciamo di recente. Il libro che presentiamo si intitola Tu sei Pietro, Benedetto XVI contro la dittatura del relativismo, edizioni su Garco 2011. Beh, professore, la prima domanda è inerente proprio al sottotitolo di questo libro, che ci dà lo spunto per riflettere su quella che è stata definita dal pontefice la dittatura del relativismo. Ma questo, secondo lei, è un problema che oltre che i cattolici riguarda anche un po' tutta la realtà del mondo cristiano? Io credo che riguardi anche i non cristiani e perfino i non credenti. Certamente questo libro è un libro sul pensiero di Benedetto XVI, ma è un libro che insiste su questo aspetto del suo pensiero, che è la critica del relativismo, che è una critica che non è mai condotta, e questa è la novità di questo Papa, non è mai condotta da un punto di vista confessionale. Cioè il Papa non dice dovete diffidare del relativismo perché è condannato nel catechismo della Chiesa Cattolica e a rigore non dice neppure dovete diffidare del relativismo soltanto perché va contro la Sacra Scrittura, ma dice dovete diffidare del relativismo perché è contro la ragione, perché negare che esista una verità non è ragionevole e alla fine distrugge Erode le basi stesse su cui la ragione è in grado di conoscere il reale. Certo, una volta che il relativismo ha dichiarato non esiste nessuna verità, è chiaro che non esistono neppure le verità religiose, perché se niente è vero neanche la Bibbia può essere vera, quindi questo è un grave problema per tutti i cristiani. Se niente è vero neanche i documenti della Chiesa Cattolica possono essere veri, e quindi questo è un problema per tutti i cattolici, però il pensiero di Benedetto XVI ha questa caratteristica che ne fa un intellettuale studiato poi spesso anche da persone molto lontane dalla religione, cioè se niente è vero, se il relativismo è imposto anche con un'egimonia culturale che lui chiama dittatura, se non è vero niente, se non esiste la verità o se la verità forse esiste in qualche angolo remoto dell'universo, ma la nostra ragione non lo può conoscere, viene meno, e questo è un aspetto su cui vorrei attirare l'attenzione, la possibilità di dare delle regole a quel gioco che si chiama società, perché o noi ci sediamo intorno a un tavolo, persone di religioni e di filosofie diverse, e diciamo però abbiamo in comune la ragione, che non è né cattolica né protestante né buddista né atea, e quindi sulla base della ragione riconosciamo alcune verità fondamentali e ne traiamo le regole del gioco sociale, oppure, ed è un grande tema di questo libro, ma direi del pensiero di Benedetto XVI, se non ci sono delle regole del gioco comune riconosciute da ragione, la parola passa alla violenza, cioè chi vince, non chi ha i migliori argomenti, ma chi ha i migliori fucili o in epoca di terrorismo le migliori bombe, quindi in realtà il relativismo che nega la possibilità che esistano delle verità comuni per tutti, per esempio sul piano dei diritti umani, dei diritti delle minoranze, dei diritti delle donne, della rinuncia alla violenza, il relativismo non è come alcuni dicono una ricetta per la pace, ma è una ricetta per la guerra, perché o esiste una verità contivisa, oppure per decidere come si deve vivere, l'unica è dare la parola alle armi e avrà ragione chi spara più forte. Nel corso di queste puntate abbiamo parlato, presentato i libri del professor Introvigne sui temi dei nuovi movimenti religiosi. Oggi ci sta spiegando, dico in maniera molto chiara, quello che è un po' il significato di quella che è stata definita la dittatura del relativismo. Il professor Introvigne però si è interessato anche per questioni professionali ai temi della libertà religiosa e del pluralismo religioso, temi su cui è stato relatore, ricordo, di istituzioni parlamentare nel nostro paese, al Parlamento europeo, ma anche in molti altri paesi nel mondo e anche è stato consulente della polizia svedese, dell'FBI, per cui ha organizzato due seminari internazionali presso l'Accademia di Quantico e in seno a questo curriculum di tutto rispetto, volevo sottolineare e ce ne parlerà, ci spiegherà un po' il professore di questo nuovo e prestigioso ruolo che ha acquistato, di cui è stato titolato come rappresentante OSCE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione, con un'attenzione particolare alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre regioni. Io vorrei che, professore, lei ci potesse un po' spiegare di questo incarico, diciamo, che ha acquisito e in che consiste la sua attività in questo senso. L'OSCE è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che nasce con gli accordi di Helsinki nel 1975 e comprende 56 paesi, cioè tutti quelli dell'Europa, ma l'Europa in senso ampio perché ci sono tutti i paesi che risultano dello smembramento dell'Unione Sovietica, alcuni certamente collocati geograficamente in Asia come il Kazakhstan o il Kyrgyzstan e poi comprende gli Stati Uniti e il Canada. Quindi sono 56 paesi, come dice l'Emma dell'OSCE da Vancouver a Vladivostok ed è la maggiore organizzazione mondiale che si occupa di promozione come dice della dimensione umana, cioè di sviluppo delle istituzioni democratiche e dei diritti umani. Ha avuto indubbiamente un grande ruolo, soprattutto nei paesi ex sovietici, nell'aiutare con molte difficoltà ed è un processo non ancora compiuto questi paesi a dotarsi di istituzioni post comuniste e ha in qualche modo, e anche questo è un processo non ancora compiuto, a garantire i diritti umani. Fra i compiti dell'OSCE, che è un'organizzazione considerata le Nazioni Unite come un'agenzia regionale, ma un'enorme agenzia regionale con 56 paesi dentro la Russia e gli Stati Uniti per esempio e tutta l'Unione Europea, quindi un'enorme agenzia regionale, fra questi compiti vi è anche la tutela, la sorveglianza della libertà religiosa. Il di Castero di cui io sono responsabile si occupa della libertà religiosa dei cristiani e dei membri di altre religioni, cioè di tutti, meno che gli ebrei e i musulmani che hanno dei di Casteri a parte solo per loro, ma si occupa anche della lotta al razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni razziali e quindi è un mandato molto ampio per un di funzionari lavorano a questo, la tutela dei diritti dei Rom e dei Sinti nello spazio OSCE, che è un mandato su cui ho già avuto occasione di interagire con diversi governi che hanno dei problemi di immigrazione e di integrazione dei Rom e dei Sinti, compreso quello italiano. Ma io direi proprio in seno a questa ultima questione che lei ha sollevato, perché ci troviamo in un momento storico e politico e direi anche sociale, in cui il problema che lei ha sollevato degli immigrati è tangibile, esiste e soprattutto spesso i cittadini e perché no anche i credenti si interrono, si domandano su quale possa essere la soluzione. Lei diciamo che ormai con questo incarico si occupa e ha visione di prima mano della situazione in cui versano e vivono questi questi uomini e queste donne, quale pensa possa essere la soluzione, in virtù anche diciamo ricordiamo degli argomenti del libro di cui stiamo parlando, di quale deve essere il ruolo un po' diciamo dei cristiani all'interno della società civile. Sì, l'OSCE ha competenza tramite in particolare il mio di Castero nel ammonire gli stati talora nell'intervenire quando si verificano episodi di razzismo, di discriminazione nei confronti di immigrati basati sul colore della pelle o sulle differenze etniche, linguistiche e anche religiose. Questo però è un compito che va svolto con grande realismo perché da una parte occorre condannare senza reticenze, direi in questo le chiese cristiane hanno un ruolo di primo piano, bene merito, le violenze che talora scoppiano nei confronti degli immigrati e il risorgere pericoloso non in Italia per fortuna ma in altre regioni d'Europa del razzismo, ma nello stesso tempo naturalmente l'approccio deve essere realistico perché non possiamo noi in particolare in un paese come l'Italia e questo vale per altri paesi, penso alcuni anche molto piccoli che hanno dei problemi drammatici come Malta, non possiamo permetterci un numero illimitato di immigrati, cioè se nel bellissimo studio televisivo dove ci troviamo è una stanza dove ci stanno 10 persone e se qui vicino c'è stato il terremoto noi in nome della cristiana solidarietà magari riusciamo a farcene stare 15, magari per una notte, per una giornata riusciamo a farcene stare 20, ma se pensiamo di farcene stare 200 muoiono tutti soffocati. Allora noi siamo sicuramente in grado in situazioni di emergenza che si vanno verificando anche nell'area mediterranea di accogliere alcuni temporaneamente, alcuni permanentemente un certo numero di immigrati, ma questo numero non può essere illimitato perché sennò vivono male gli stessi immigrati. Io ho avuto occasione di visitare Rosarno, teatro anche di avvenimenti tragici in Calabria. Rosarno è una fotografia di come non si deve gestire il problema dell'immigrazione perché a Rosarno ci sono degli alloggi costruiti per tenerci 4 persone dove ci stanno in 40. Questo naturalmente fa sì che queste persone vivano male, vivano in condizioni igieniche deplorevoli e poi si accoltellino anche fra loro e quindi così non può funzionare. Per cui certamente la tutela dei diritti dell'immigrato, in particolare contro fenomeni risorgenti di razzismo, certamente la collaborazione con le chiese che promuovono una cultura delle solidarietà, dell'accoglienza e perché no anche della minestra, della coperta calda di cui spesso si occupano solo i cristiani ma che sono necessari per queste persone, però anche un approccio realistico che tenga conto che con tutta la disponibilità alla solidarietà internazionale, all'accoglienza, il numero di immigrati che paesi come l'Italia, anche paesi più piccoli, ripeto, che per ragioni geografiche, facevo l'esempio di Malta, si trovano sulle rotte dell'immigrazione, sono in condizioni di accogliere, non è illimitato. Ripeto, se una stanza tiene 10 persone, stringendoci ci staremo in 20 ma non ci staremo mai in 200. Allora io, diciamo, credo a nome un po' anche dei nostri telespettatori, facciamo gli auguri al professor Introvigne per questo incarico che lo vede impegnato per l'anno 2011, sperando che possa in maniera concreta poter dare una mano, diciamo, concreta a queste persone che hanno bisogno di politiche in grado di venire incontro alle loro esigenze e perché no, diciamo, anche chiaramente di tutelare anche un po' i paesi che accettano queste domande, diciamo, di queste persone perché si possa raggiungere il giusto equilibrio. Io voglio anche ringraziare a conclusione il professor Introvigne, lo abbiamo avuto ospite per una serie di presentazioni, lo salutiamo, speriamo in futuro di averlo ancora con noi. Io vi ricordo che l'attività del professor Introvigne la potete seguire sul sito www.cesnur.org, che è il centro studi sulle nuove religioni, dove troverete informazioni sugli articoli, sulle pubblicazioni e sugli ultimi libri che il professor Introvigne ha pubblicato. Io sono veramente onorato di averlo ospite qui in studio, lo ringrazio anche, diciamo, per la fiducia che spesso mi ha accordato in seno ad alcune ricerche che abbiamo condotto soprattutto in ambito pentecostale. Oggi abbiamo presentato la sua ultima pubblicazione Tu sei Pietro, Benedetto XVI contro la dittatura del relativismo, su Garco Edizioni del 2011. Ma vi ripeto, potete trovare tutte le sue pubblicazioni sul sito www.cesnur.org. Io vi saluto, cari telespettatori, sperando di avervi offerto ancora una volta uno spunto di riflessione, cibo per la vostra mente, perché possiate dedicarvi alla lettura. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica televisiva al libro aperto. Grazie. Grazie.